Anche oggi ci è andata male Anche oggi la nostra super punto ci ha portato dove volevamo arrivare Chissà quando ci abbandonerà Abbanderà Ragazzi della stanchezza Abbanderà Forza, forza Abbanderà Una cavalletta così grande Ora faccio il silver grease che me la mangio Grazie a tutti E prima che Lidia si dilunghi No in realtà Siamo riusciti a scendere Purtroppo non c'è tanta acqua come potete vedere Ma ci siamo comunque voluti impegnare Perché speravamo Che la situazione fosse migliore Così non è Ma ci accontentiamo Un po' d'acqua Abbiamo trovato Abbiamo trovato anche una piccola piscinetta Non so se si vede là dietro Un buco è Una piccola piscinetta al quale vogliamo dare un nome Questa è l'ultima L'ultima escursione Tre partenza Quello del prossimo partiamo Finalmente Torniamo al nord Come già sapete Vabbè prego e dire Tutto fino a 6 c'è Non l'abbiamo detto Ma torniamo al nord Ho detto anche Quindi andiamo in Finlandia Non ve la volevamo dire Ma non è vero Un'altra piccola puntata Un'altra partenza Dalla prossima settimana Inizieremo la prossima Abbiamo intenzione di fare Non un videolog Giornaliero Ma faremo un piccolo riassunto Di quello che sarà Di quello che sarà il nostro prossimo viaggio Così vi salutiamo Dalla canzata di Caponezzo Livia Pichella Aram Fag Eeeh Vediamo al fresco